Siamo qua davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta Sì, quella che vediamo non è la chiesa originale è la chiesa originale di Santa Maria Assunta e San Nicolau origine già nel 200 ma purtroppo è andata a fuoco a metà 600 e quindi dopo vari architetti si sono succeduti e l'hanno ricostruita prima il Morello che era un architetto dei Savoia era i neri che ha fatto un progetto ancora più imponente infine il risultato finale che vediamo è stato realizzato dal Vittone e dal suo allievo Quarini se entriamo dentro ti faccio vedere alcune cose interessanti mi hanno detto che c'è anche un organo ecco, vedi la particolarità di quest'organo al di là della dimensione molto grande con tutte queste canne vedi questi putti con le trombe sembrano decorativi ma in realtà essi suonano davvero quando erano costruiti all'inizio del 800 hanno pensato proprio di creare un registro per questi putti e cliccando, pigiando i tasti si mettono note ed è uno dei pochissimi organi che hanno questa particolarità sicuramente è una rarità sì